che ci racconta tutto partiti Genui Ram in vantaggio per un attimo poi è Baldissero che passa a condurre trascinandosi all'esterno Nilasi in terza posizione all'interno rimane ora Genui Ram a precedere Dolce Amira Baby Chris con in coda Dambaghi Cavalli ora all' imbocco della curva di fondo con Baldissero che viene scavalcato da Nilasi che ora è passato a condurre davanti allo stesso Baldissero che ha all'esterno Dolce Amira quindi in quarta posizione a largo Baby Chris all'interno Genui Ram e in coda Dambaghi Cavalli all'ingresso in retta di arrivo con Nilasi avvicinata all'esterno da Dolce Amira dietro i due Baldissero quindi Baby Chris Genui Ram per linee interne Dambaghi siamo a 500 dal palo Nilasi sta allungando nei confronti di Dolce Amira all'interno si mantiene Baldissero a largo e Baby Chris in anticipo su Genui Ram che rimane per corsia interne e Dambaghi siamo a 200 dal palo Nilasi subisce l'attacco interno di Genui Ram poi Baldissero ancora Dolce Amira e Baby Chris Genui Ram lungo lo steccato è passato in vantaggio nel finale Genui Ram si impone davanti a Dolce Amira poi Baldissero Baby Chris e Dambaghi vicini per il terzo posto vediamo ora le immagini che ci riproporrà la regia con Francesco Dettori che vince ancora in giornata con Genui Ram numero tre dello schieramento al posto d'onore termina il quattro di Dolce Amira mentre per il terzo probabilmente Baby Chris su Baldissero ma i due sono vicinissimi e bisognerà aspettare il risponso del giudice d'arrivo grazie a tutti